I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm Con l'inizio di settembre è cominciata anche la nuova stagione per la BC Celeste di Ennio Napolitano che ha ripreso gli allenamenti presso la palestra comunale di Grotta Minarda. La squadra di badminton si sta preparando per affrontare tre impegni molto delicati. Dal 20 al 23 il club, con un team misto, parteciperà alle finali coni a Rimini. Nella squadra sono stati inseriti per l'evento anche due atleti del convinto Pietro Colletta di Avellino. L'appuntamento più importante è sicuramente quello che riguarda Costantino Maietta, il docente di scienze motorie e stato convocato dalla Nazionale Senior Rover 60 per disputare l'Europeo di Guadalajara che andrà in scena in Spagna dal 24 settembre. Per l'atleta si tratta della prima volta in azzurro, un risultato meritato dopo gli ottimi campionati svolti negli ultimi anni dove ha portato a casa in totale un oro, un argento ed un brunzo. Infine, la società irpina concluderà a settembre con il circuito di Bolzano dove a scendere in campo per la categoria para badminton sarà l'atleta Berardino Locchiato.